Sicuramente una giornata da ricordare, una giornata importante per la mia carriera, ma soprattutto una giornata importante per quello che dovremmo andare a fare per il futuro, per questa città, per questi giochi, ma per tutta la regione. Sì, abbiamo un obiettivo comune che è quello di fare bene e cercare di creare appunto dei giochi che vengano ricordati per il bene e non per i litigi. La mia esperienza d'atleta, ovviamente aver vissuto dall'altra parte, so cosa un atleta vuole, so di cosa ha bisogno un atleta e cercherò di mettere appunto l'atleta al centro di tutto il progetto. Serve organizzazione, come per tutte le cose, quando ho finito di fare l'atleta e sono passato dall'altro lato, ho capito che le cose vengono fatte bene nel momento in cui c'è organizzazione, quindi credo che serva un attimo sedersi a tavola, vedere quali sono le priorità e organizzare bene tutto. La spaventa nei tempi di realizzazione delle opere? Le difficoltà della pubblica amministrazione? Assolutamente no, non ho paura di queste cose. In ritardi della burocrazia, che troverà? Testa bassa e pedalare, lo sport mi ha insegnato questo, quindi non mi fa paura lavorare. Infine cosa vuole dire ai tarantini e ai pubblici? Che sono tornato a casa, quindi sono contento. Un supporto importante, una persona che ha vinto tanto nello sport, che ha esperienze in questo settore e chiaramente ne ha avute anche per poter fare bene il direttore generale del comitato organizzatore. Sono convinto che abbiamo una persona oggi al fianco che darà un grandissimo contributo perché si realizzi non soltanto, ma anche bene con l'organizzazione che serve i giochi del Mediterraneo. Abbiamo un compito, quello di sviluppare una grande opportunità per questo territorio e per l'Italia tutta. i giochi sono un faro sul nostro paese e noi lavoreremo perché lo sia forte questo faro, perché si accenda veramente una grande luce su una città e un territorio che ha bisogno di questo per far conoscere quello che è, la verità di questo territorio, una grande e bellissima città che è l'orgoglio della nostra regione e che merita di avere quello che ha e che avrà ancora di più con questi impianti che costruiremo e che rimarranno alle future generazioni. Stiamo lavorando per questo. C'è qualche novità sui progetti ultimi di queste ore? Stiamo lavorando per i progetti, siamo in contatto con Sport e Salute, siamo in contatto con tutti i comuni. La novità è che tutti i comuni, tutti, mi hanno dato la conferma che hanno il PFTE per i cittadini, lo spieghiamo meglio, i progetti con il nuovo codice pronti. Tre mesi fa non c'erano, oggi ci sono tutti i PFTE di tutti i comuni. Appena abbiamo i decreti da parte del governo e li avremo subito, noi faremo il protocollo di intesa. Chiaramente non ce la facciamo per Natale, ma a gennaio sicuramente faremo questa cosa per far partire a febbraio le gare di appalto in tutti i comuni. Con il comune di Taranto stiamo lavorando per far partire le progettazioni nella speranza che a maggio si possano far partire anche le gare di appalto. Stiamo lavorando dalla mattina alla sera per questo. Oggi come organizzazione e come comitato dei giochi abbiamo il nuovo direttore generale, non vedevamo l'ora che arrivasse il nuovo direttore per realizzare tante cose importanti che dobbiamo fare. Pertanto ovviamente chiudere le progettazioni specifiche per Centro Nautica e Piscina e fare le progettazioni per Stadio, Iacovone e... Per quanto riguarda le piscine se ne occuperà attraverso la società di progettazione il comune di Taranto affiderà brevissimo la progettazione. Per quanto riguarda lo Stadio Iacovone e il Pararicciardi lo faremo direttamente noi attraverso Sport e Salute evitando una gara che dura quattro mesi, non possiamo permetterci più di aspettare. Per quanto riguarda il Centro Nautico c'è già il PFT e quindi il primo ad andare in gara sarà proprio il Centro Nautico. Quando andrà in gara? Subito, credo entro gennaio il Centro Nautico inizia la gara del Centro Nautico. Per fare i lavori di costruzione? Per quanto riguarda lo Stadio e per quanto riguarda lo Stadio del Nuoto stiamo pensando a più stralci e soprattutto a demolire Ricciardi e Stadio con uno stralcio prima di iniziare anticipato. Per quanto riguarda il Centro Nautico l'utilizzazione dell'area? Siamo pronti, abbiamo fatti più passi avanti e siamo pronti anche per quanto riguarda la Marina. A brevissimo si dovrebbero liberare le aree, nel frattempo noi facciamo le gare. Andrò a vedere gli impianti, le aree oggi? Sì sì, andrò a Castellaneda.